Dopo l'uscita delle brano all'allucinazione collettiva di Fedez, che non si è rivelato una risposta al Disney in Tony F, bensì una canzone d'amore per Chiara Ferragni, sua ex moglie, Chiara ha ovviamente risposto, chiedendo di essere lasciato in pace e non apprezzando la canzone. Inoltre ha spiegato che si è rotta le scatole che viene tirata in mezzo in queste situazioni qua e che vuole mettere un punto alla faccenda. Non si sa ancora bene come. TaylorMega invece diventa virale su TikTok per un video, che vedete qui di fianco, dove fondamentalmente va a prendere in giro Chiara Ferragni stessa. È abbastanza evidente che si pare di Chiara Ferragni, perché da quanto abbiamo capito dai vari dissing, Fedez la faceva con TaylorMega, almeno detto di Tony, non si è ben capito se durante il matrimonio oppure no, mentre invece Tony, a quanto pare dopo la loro rottura, si frequentava con Chiara. Non aggiungo altro, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio.